Ciao a tutti, incontri solo uomini che invece di corteggiarti vanno subito al sodo e poi spariscono? Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, nonché iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, diciamo che il corteggiamento potrebbe essere un po' definito come il caro estinto, perché il mondo, diciamo, sembra annunciare la sua morte e insieme al corteggiamento sono venuti un po' a mancare tutte quelle, diciamo, gentilezze, quelle attività che l'uomo faceva per, diciamo, corteggiare una donna e tra l'altro per ottenere i consensi di una donna e tra l'altro è un qualcosa che è presente anche nel mondo animale. Oggi sta sparendo e devo dire probabilmente anche un po' colpa di alcune donne che non mettono più dei vincoli, non mettono più dei limiti e quindi il maschio, diciamo, non deve fare molti sforzi. E questo è un grave errore da parte delle donne che fanno per paura, per paura ad esempio poi di essere abbandonate e quindi vogliono subito accappararsi, diciamo così, la situazione per paura che sennò lui se ne vada e che dopo un primo approccio abbandoni il campo. E questa paura dell'abbandono è quella che le fa fallire poi nelle relazioni sentimentali affettive. Io farò un video e farò un corso, farò un corso venerdì 15 novembre 2019 a Torino alle 20.45 proprio sulla, su come eliminare la paura dell'abbandono affettivo per conquistare l'amore. Quindi chi è interessata? Il riferimento è 333 15 11 703. perché l'arcotteggiamento aveva una funzione e ha una funzione interessante. Primo perché richiede un impegno da parte dell'uomo e dobbiamo renderci conto che più impegno una persona mette, più è probabile che poi non fugga, che poi non scappi. Questo lo raccontano un po' tutte le favole, no? Il principe che per avere la prima mano della principessa sudava sette camicie, faceva, affrontava mille peripezie, poi non è che una volta conquistata sta principessa poco dopo la lasciava, assolutamente no. L'idea di corteggiare ha questa valenza, anche negli animali ha proprio questa valenza. Quella di, diciamo, consolidare una relazione prima di passare sul lato fisico, in modo tale da mettere altri tasselli. Uno degli errori, delle trappole, diciamo così, in cui cadono le donne è quello spesso di non indurre l'uomo in un corteggiamento. La donna che deve avere la capacità di indurre l'uomo a corteggiare. E ripeto, questo non lo fa soprattutto per paura dell'abbandono affettivo, che va superata. Va superata e anzi la paura dell'abbandono affettivo va utilizzata nel corteggiamento. Cioè il corteggiamento è tutto un gioco di fughe, di avvicinamenti, di allontanamenti, in cui l'uomo metteva energie, metteva energie fisiche. Il corteggiato, la corteggiata, tendeva a sfuggire al corteggiatore. Queste fughe, diciamo così, questi allontanamenti davano ancora più energia al corteggiatore di fare dei passi avanti. Questo è fondamentale, perché se una donna riesce a fare questo, beh, diciamo che al 50% può già avere le basi per, diciamo, avere quasi la certezza che la relazione comunque poi durerà, quello che durerà se le cose non vanno, ma che l'intenzione del maschio sarà quella di farla andare avanti. E quindi bisogna partire sempre da se stessi, dalle proprie paure, sfruttando il fatto che, diciamo, superando queste paure, si otterranno sicuramente dei risultati molto maggiori, molto più favorevoli. E invece, no, la paura dell'abbandono affettivo fa sì che una donna, questo trauma, diciamo così, da distacco non desiderato, creda che concedendosi, senza far sì che il maschio prenda grossi impegni, diciamo così, nel corteggiamento, possa essere una chiave per tenersene. In realtà succede esattamente il contrario. Se siamo governati dalle nostre paure, non otterremo dei risultati positivi, ma anzi, otterremo sempre costantemente dei risultati negativi. Per cui è importante valorizzare il corteggiamento. Ripeto, per superare la paura dell'abbandono affettivo ti do appuntamento venerdì 15 novembre a Torino, ore 20.45, riferimento 333 1511 703. Per questo video è tutto, al prossimo video. Ciao!